ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce io sono Rossella insegno logo sealing che è una modalità che si avvale di guarigione che si avvale del potere della parola ed aiuta ad eliminare i sistemi di credenza e le paure i blocchi limitanti e sabotanti le resistenze i traumi del passato e può aiutare la persona a riallinearsi e ritrovare il proprio potere personale spirituale mi trovo qui con Lucia ciao Lucia buonasera come stai? Lucia ha fatto un bel percorso un bel percorso con me ha fatto delle sessioni private poi ha fatto un percorso di 10 settimane sulla manifestazione quindi abbiamo lavorato su tutti i blocchi legati alla manifestazione però Lucia oggi è diventata autonoma ed indipendente utilizza logo sealing per tutti gli aspetti della sua vita quindi ho voluto fare voglio fare questa intervista e chiedere a lei cosa ci può raccontare su logo sealing dimmi un po' Lucia raccontaci come è andato il percorso come ti sei trovata allora buonasera a tutti voglio lasciare questa mia testimonianza col cuore perché comunque ho conosciuto Rossella e mi sta insegnando tantissime cose e ho fatto il percorso con lei di logo sealing che è un lavoro bellissimo bellissimo comunque perché riporti la tua energia comunque ad un equilibrio e dove gli ostacoli poi non li affronti in un modo diverso niente dico che da quando iniziato il percorso con Rossella tante cose sono cambiate innanzitutto mi sento con molta più energia mi sento più come si dice riesco ad affrontare qualsiasi cosa con più coraggio con più coraggio con più determinazione e quindi questo lavoro mi ha aiutato tantissimo a livello energetico bene bene a chi lo consiglieresti Lucia dimmi un po' a tutti a tutti a chiunque a chiunque vuole fare questo percorso si sente di fare questo percorso perché comunque è un lavoro che è per tutti perché comunque tutti quanti ci possiamo trovare in situazioni dove abbiamo bisogno di lavorare su noi stessi sulle nostre energie sulle nostre paure sulle nostre sulle nostre emozioni e quindi è un lavoro che possono fare tutti tutte le persone che magari stanno anche facendo un percorso di guarigione no di riallineamento tu lo usi per tutto vero Lucia io sì io sì anche nei momenti in cui mi sento un pochino diciamo scarica di energie allora faccio logo sealing grazie grazie comunque alla protezione comunque dell'arcangelo michele recupero il mio stato vitale quindi a seguito la riprogrammazione che è molto bella con il tapping dove si fanno delle affermazioni positive e arrivano tantissime energie positive comunque io ricordo che quando stavamo facendo il corso tu dicevi mi sembra di essere cioè mentre tu affermavi quello che volevi raggiungere tu hai detto proprio mi sembra di essere già lì mi sembra già di aver manifestato quello che desidero è proprio questa l'energia che porta che sale che cambia durante il lavoro col tapping e con la riprogrammazione vero? bene stai avendo dei risultati concreti nella vita di tutti i giorni? sì sì già il fatto comunque che io col lavoro che faccio comunque essendo una persona che è molto sensibile in pratica io sono un operatore socio sanitario e comunque tutti i giorni io ho tratto delle persone malatte e quindi un lavoro abbastanza abbastanza faticoso dal punto di vista fisico ma anche psicologico comunque io sono sempre stata una persona comunque allegra dove comunque quando entro a casa dei miei utenti cerco sempre di dare di alleggerire comunque la loro sofferenza e quindi questo per me già è una grandissima cosa però mi capitava spesso che a contatto con un collega o con alcune situazioni insomma di scaricarmi facilmente perché assorbivo troppo le energie essendo appunto una persona molto sensibile e empattica certo e invece adesso diciamo con questo lavoro riesce ad affrontare meglio sono riuscito comunque a schermarmi bene faccio le preghiere e mi sento più inattaccabile come si dice bello bellissimo impenetrabili all'oscurità bellissimo veramente che bello grazie io ti ringrazio per questa tua testimonianza spero che possa arrivare al maggior numero di persone possibili che magari stanno cercando proprio questo lavoro per cambiare la loro vita proprio come sta accadendo a te grazie per il tuo contributo veramente Lucia un abbraccio a te un bacio ciao a tutti ciao ciao